E c'è tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Senex e oggi signori siamo tornati su Football Manager 2020 Benvenuti nell'ottantesima puntata, benissimo signori, allora, 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 purtroppo non stiamo andando bene in realtà Ma a livello di classifica sarà praticamente quasi impossibile riuscire a puntare nuovamente all'Europa Anche quest'anno purtroppo sembra che stiamo per fallire Comunque vi faccio vedere, siamo a 7 punti dalla Juventus che è a 54, a 6 punti dal Napoli che è al sesto posto Il calendario potrebbe venirci in soccorso perché oggi abbiamo Sassuolo, Chiavudinese e Bologna e Brescia Quindi 5 partite sulla carta, fattibili, comunque squadre al nostro livello, andiamo a vedere se sarà così Io come sempre nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, qualora non lo foste, intanto andiamo avanti Di lasciare un bel like, di condividere il video per farlo conoscere a tutti, ragazzi Nel frattempo, scusate, il mio amico Daniele mi ha dato dei consigli tattici Li andiamo a provare subito, ovvero di mettere i terzini di supporto Perché effettivamente non a tutti i torti Andrebbero a pestarsi i piedi con le ali d'attacco E poi di mettere un regista avanzato, anzi un regista arretrato di supporto Va bene, vediamo un po' come funziona con questa nuova tattica Secondo i suoi consigli, il suo modo di pensare dovrebbe andare molto meglio Lo andremo a provare, sapete che io sono sempre molto aperto a tutti i consigli del mondo Intanto tra 9 giorni andremo a sfidare Sassuolo in trasferta ovviamente al MAPEI Stadium Speriamo di iniziare con una bella vittoria Allora, siamo pronti signori per la prima partita contro il Sassuolo Muric in porta, Porro, Kemp e Bastoni, Sevici in difesa Buccia-Bacca, Ack sulle fasce con Bellingham e Moriba a centrocampo Suarez e Bogicevic lì davanti Torna finalmente il nostro pistolero Confermiamo la formazione, vediamo un po' il Sassuolo invece come scendere in campo Io vi ricordo che domenica signori ci sarà la live riguardante il mercato Alle ore 21 sia su YouTube che su Twitch In entrambe le piattaforme Mentre il Sassuolo scende in campo con un 4-4-2 diamante stretta Stankovic, il fratello di Dejan Sì, Stankovic in porta, Conte, Zanellato, Chiriches e Nuzzi in difesa Varotto, Mediano, Aula e Gaetano a centrocampo Brignola a supporto di Raspadori e Babacar Va bene, andiamo per la squadra di aggressivo Voglio la vittoria proprio senza nessun'altra opzione Signori, si parte, dai raga, forza Siamo alle mezz'ora ragazzi Poche azioni, in verità più del Catania Come potete vedere anche grazie a un passosso palla schiacciante Ma come sempre non riusciamo a essere incisivi lì davanti Io mi scuso qualora a volte i vostri consigli verranno applicati nei video con ritardo Ma purtroppo devo registrare un po' di fila, raga, perché tra live, tra i video, tra i due video al giorno Insomma non c'è tempo per, non ho tempo per registrare proprio giornalmente Intanto c'è Pedro Porro Moriba, attenzione che lui è una bella minella dalla distanza Saseovic ancora per Moriba e si fa rubare palla stavolta Raspadori avanza, tutto solo e c'è il gol ovviamente Perché noi sbagliamo sempre davanti alla porta Loro figuriamoci se potranno mai sbagliare No, non esiste Il Sassuolo passa in vantaggio quando stavamo appunto al quarantesimo Un tiro hanno fatto, raga, come sempre hanno fatto un tiro aggressivo Un po' di grinta, non sembrate neanche una squadra che gioca per vincere, cari signori Zanellato, ancora il Sassuolo in possesso palla Owlay verso Varotto Il filtrante per Babacar Il tiro, e meno male, qua c'è Murci che la va a salvare Ancora il Sassuolo Oh, raga, è forza Robin H, vediamo Avanza, Robin H, il filtrante che non arriva Si fa tutta la difesa C'è Bocicevic e Begovic Bocicevic, niente Babacar, il filtrante per Raspadori Kemp, bravo, ruba palla Robin H, Bastoni, Robin H, il lancio per Bocicevic Fa qualcosa Boci E ancora tiene palla, bravo L'appoggia Bellingham, piedi, Fatati, Pedro Porro Abuccebacca, in mezzo Bocicevic, oh, è davanti al portiere Guarda, sbagliavo questo e me ne andavo Raga, avrei spento, però che me ne sarei andato Bre, bene, bene Eh, ma possiamo andare a vincere questa partita Signori, vi dispiace se la vinciamo? Spostiamoci un po' con una mentalità offensiva Eh, abbiamo tre ammoniti che andiamo a togliere Ragazzi, per carità, visto anche l'ultimo episodio Come è finita, eh, Bellingham Sì, per Viviani Eh, Bastoni, purtroppo dobbiamo lasciarlo Va bene, andiamo Settantasettesimo Ancora il Catani in possesso palla Bastoni si appoggia a Muric Verso Pedro Porro sulla fascia destra E può avanzare un po' di spazio Xalas Avanza Xalas 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 Il filtrante bellissimo per Bogicevic Una nuova stella è nata sotto il firmamento ross-azzurro Uros Bogicevic Benissimo Il nuovo, eh, Suarez No, 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 no Veramente, guarda Eh, è Football Manager Ne hai date tante di collere, guarda Non, non facciamo la solita cafonata Che mi andate a segnare dopo un secondo Per favore Ce la facciamo? Possiamo fare, anzi, un bel 3-1 Ci mettiamo tutti tranquilli Guarda, stavo esultando Era proprio un'atmosfera gioiosa Bogicevic Una stella È nata e confermata Grande, grande, grande Uros Eh, ragazzi Io ci vedo lungo C'ho l'occhio proprio clinico per i fenomeni Domandiamo di più Anzi, no Io veramente li volevo andare ad elogiare Va bene Mettiamo intanto Rega Persevic Che è presente con le bombole d'ossigeno Ah, tripletta Tripletta di Bogicevic Grandissimo Attenzione perché c'è ancora tempo per il poker C'è ancora tempo per il poker No, non c'è tempo per il poker Famo, famo se una canasta Va, non c'è tempo Pompili Il tiro Benissimo Ok, fermato da Muric Lodali, lodali Posso lo dargli? Grande vittoria questa in trasferta al MAPI Stadium Ovviamente tutte le trasferte non sono intrise di difficoltà Suarez Il pistole Eroxalas E per poco Va bene Suarez ha lasciato lo scettro di bomber a Bogicevic Ai più giovani Giusto così, ragazzi Va bene Benissimo Andiamo a vincere Grazie a una grandissima prestazione di Uros Bogicevic È una gran bella vittoria Ben fatto Bravi, bravi, bravi ragazzi Oh, benissimo È la prima, signori Ce la siamo portati a casa È il fuoriclasse Bogicevic In stadio di grazie Elogelo Elogelo È stato superlativo In zona goal Continua così Suarez è entusiasta Della rimonta del Catania È vero che perché stavamo perdendo 1-0 Ogni volta che noi andiamo a rimontare Ragazzi È ovviamente sintomo È di un gran carattere della squadra Quindi Fa sempre piacere Adesso siamo in casa Contro il Chiavo Verona Che è diciassettesimo Quindi proprio terzultimo Sta soffrendo È stata versando un brutto momento La vittoria ovviamente Dovrebbe essere scontata Anche se è discontato In questo gioco Non c'è nulla Vediamo cosa fanno Attenzione Stanno giocando adesso contro la Fiorentina Quindi avremo anche Un po' di vantaggi a livello fisico Hanno perso 2-0 Ottimo Quindi a livello di morale Saranno a terra Dobbiamo approfittare ragazzi Dobbiamo vincere assolutamente Allora Siamo pronti signori Contro il Chievo Verona L'Angelo Massimino Cibali Murici in porta Poro Kenfo Bastoni Siavici in difesa Come sempre Buccebacche Eac sulle ali Una pesante assenza Dovuta alla squalifica Di Jude Bellingham Centrocampo Sostituito da Viviani Moriba A completare il pacchetto Di centrocampo E poi i soliti Suarez Il nuovo campione Bogicevic Lì davanti Andiamo Il Chievo Verona Non ha paura Si presenta con un 4-1-2-3 Abbastanza offensivo Con Fente in porta Cagnano Cosciolava Silva e Magri in difesa Danieli Mediano Bessa e Maestro Centrocampo Knockert Knockert Panico Paura Che cazzo Come si Rossi Sciovenè Rossi Sciovenè Beh Massimo Oddo L'allenatore Appassionato Ultimamente Stiamo andando bene Continuiamo così Perché fermarci Voglio dire Sarebbe stupido No Fermarci proprio adesso Cari signori Abuccebacche Attenzione Perché Bastoni Presa una botta In mezzo C'è Con Fente Che però La fa Sua E fa ripartire subito L'azione Verso Panico Paura Mazza Panico Panico Veramente Murci Con le dita Bastoni Si 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 Lo andiamo a togliere Già che lui Ogni tanto Ha i suoi problemi Mettiamo Graviglione Per Bastoni Perfetto Confermiamolo Non vorrei aggravare Ancora di più La situazione La situazione Di Alessandro 42 43 Non è successo Completamente Come sempre Una mazza Benissimo Finisce il primo tempo 0-0 Spogliatoio Non mi soddisfa Per niente Quello che ho visto Quindi se per favore Andiamo avanti Moriba Attenzione Il Catania Ancora in avanti Verso Robin H Che ha spazio 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 Robin 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 In mezzo Bucebacca Non c'è che è Rigore 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 Signore Sì 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 L'ha spinto L'ha spinto Netto Netto Vai Luis Vai Luis Suarezuccio Suarezuccio Ti prego Suarez Mamma mia Ma quanto è bello Ma quanto è bello Quanto è bello Luis 17esima Rete della stagione Di rigore Luis Suarez Concentratevi Stiamo calmi L'1-0 Non è sufficiente 11 tiri 7 In porta 3 tiri per il Chievoli Il possesso palla È veramente Schiacciante A nostro favore Siamo al 66 67 Andiamo a fare Qualche cambio Robin Huck Che è un po' stanco Mettiamo Ando sta Eccolo qua Il buon Jutuccio E poi E poi Direi Bocicevic Sta giocando malino Per adesso lo teniamo Comunque fa tutta esperienza Possiamo togliere Seovic Per Bayer Sì 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 Direi di sì Va bene Ancora Adesso c'è Suarez Dall'altro lato C'è Robin Huck Ma porca miseria Niente Calcio d'angolo Anzi neanche angolo Niente proprio Perfetto 87 88 89 E anche questa Stiamo per portarcelo a casa Lo diamoli all'ultimo Eh soffrendo Non soffrendo In realtà il Chievoli Non ha fatto nulla Però Voglio dire Potevamo Dilagare Per una partita Va bene Niente Appassionato Ben fatto Anzi energico Ben fatto Dagli è ben fatto Va bene Due vittorie su due Ce le siamo Portati a casa Signori Sei punti su sei Cocciolavo è stato sconfitto Dal suo ex club Vabbè Questo era normale Che accadesse Adesso siamo contro L'Udinese Signori Un Udinese Che è altrettanto In crisi di risultati Proprio come i Clivenzi Però siamo in trasferta Siamo sempre in casa No siamo in trasferta Eh va bene Sono sedicesimo Il Chievolo era diciassettesimo Aspettando stava Vabbè La classifica poi Come sempre Mi va di vederla dopo Mi va di vederla dopo Va bene Noi tanto dobbiamo vincere A prescindere Quindi Vediamo se riusciamo Nell'impresa Di far Cinque vittorie su cinque Sarebbe davvero Fantastico Anzi Mentre siamo qua Scusate So che Andremo lunghi Come sempre Vorrei Preparatori Conce Datemi Un preparatore in più Che date Ma lo mannaggia Quanto siete Spilorci Niente Non me lo danno Vabbè Pazienza Ci ho provato E allora signori Siamo pronti La formazione La vedremo direttamente Da qua Perché ho sbagliato A premere Come sempre Del resto Anzi L'Udinese La vedremo direttamente Dalla prossima schermata Perché qua Non si legge Una mazza Però c'è Claude Ma che le le Attenzione Grandissimo Ma che le le Una Un mio pupillo Ai tempi della Francia 98 Comunque Il Catania Scendiamo in campo Con la classica Poi del resto Formazione Murici Petro Porro Kemp Bastoni Seucci In difesa A Buccebacca Hack Sulle fasce Bellingham Ritorna Moriba Completare il pacchetto Il centrocampo E poi Suarez E Bogicevic Allora parliamo La squadra Appassionato Energico Siamo favoriti Per una ragione Andiamo a dimostrare A tutti Il perché La Ludinese La leggete qui Abbiamo Piacelli Ma che si ora Pezzella Biraschi E Pezzella Due Pezzelli Abbiamo i fratelli Pezzelli Romeo Mediano Miglievic Lukic A centrocampo Dominguez Fischer A sopporto di Kramaric Va bene Mostrate subito Un bel po' di grinta Robin H Infortunato Però Sembra poter reggere Iota Comunque Già pronto A subentrare Miglievic Il Dominguez Limite dell'aria La allarga ancora Per Chezziora Fascia destra In mezzo Miglievic A supporto E mazza Che palo qua Che hanno preso Ma bene Riusciamo a liberarla Come No aspetta Non la liberiamo No 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 Non ancora Lukic Attenzione perché può partire Abucciabacca Che velocissimo Ti prego parti Su quella fascia Vola Vola Abucciabacca Vola Ma vedi La mette in mente Mazza Romeo Niente Peccato Però eh Poteva andare un po' meglio Grande Seovic Robin H Anche il filtrante per Bocicevic Una stella E tra di noi Euros Bocicevic Benissimo 1 a 0 Al trentasesimo E questo ragazzo Ci Darà Tante Tante soddisfazioni Anzi Ve lo faccio rivedere Per chi L'avesse perso Ragazzi Vale già 4 milioni e 6 Noi lo abbiamo preso 7 milioni e mezzo Era la sua clausola Recissoria Sta facendo anche il tutoraggio Con Luis Suarez Proprio per imparare Il mestiere Dell'attaccante Al meglio Intanto finisce il primo tempo Appassionato Anzi no Aggressivo Non mi soddisfa per niente Voglio spingerli ragazzi A far di più Voglio spingere la squadra A far di più Perché non è possibile Che ogni Cristo di volta Dobbiamo Vincere 1 a 0 Sempre Ragazzi All'umicino Ogni volta dobbiamo soffrire Non è possibile Va bene Siamo al 61esimo Io andrei a togliere Robinac Ragazzi Che è un po' Infortunato Quindi mettiamo Sottil Bene Se Avic è ammonito Spero Anzi No Leviamolo Dai Leviamolo Perché io non mi fido mai Dei terzi Che è troppo tardi Ah no Ok a posto E Andiamo avanti Attenzione perché c'è Ciano in mezzo Pezzella Ando sta Pallo No No Rigore No Ma che palle Vai Murci Uno parlo Nella tua carriera Non è mai parato uno Murci Adesso è il momento Per iniziare Miglievic Muric Ma era Era lì Muric Era lì Mannoggio Muric Porca miseria Da un modo offensiva Va Mostrate un po' di grinta Mancano 20 minuti Ce la possiamo ancora fare Ed ecco Proprio Muric Verso Kemp Kemp Avanza Al suo compagno di riparto Bastoni Bastoncello Verso Sottile Vai Sottile Bravissimo Vai Sottile Non tirare Ti prego E ha tirato Lo sapevo io E perché non la mettono mai in mezzo Mannaggia a loro 16 tiri Di cui 7 importa 7 Un gol Come sempre Molto offensiva Ci rispostiamo Tutti in avanti Andate avanti Mancano 5 minuti Mettiamo anche Dunque 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 Mettiamo Iota Mettiamo Iota per la buccia bacca Conferma Andiamo Non Credo che ormai Mancherà Riusciremo a fare qualcosa Però Ci sta comunque Un pareggio fuori casa Contro l'Udinese Però signori Il problema è che Non riusciamo mai A concretizzare Per quanto Creiamo Aggressivo Queste gare Si devono vincere Adesso Arriva anche il Bologna 17esimo Robinac Infortunato Per quanto 3 giorni Va bene Bocicci Vinc è sempre splendido Va bene Energico Continuiamo così Ci sta Ci sta Un pareggio Ci sta Adesso dobbiamo sperare Anzi dobbiamo assolutamente andare a vincere Sia contro il Bologna in casa Che contro il Brescia Ecco Dobbiamo approfittare di questo doppio scontro casalingo Quindi cercheremo le due vittorie E allora signori Siamo pronti per la partita Contro il Bologna Cazzovic è squalificato Andiamo a mettere in baie sulla sinistra Poi direi che per il resto A parte Robinac Che come vedete Che come vedete non è al massimo Anzi in realtà Anche Moriba Sia Robinac Che Moriba Andiamo a fare un po' di turnover Ovviamente la partita arriva dopo due giorni Rispetto a quella contro Udinese Quindi Moriba Fa spazio Al Ranocchia Che mi sembra Quello proprio adatto Oppure al buon Xadas Proviamo Xadas Va bene Se ci va a dar posto Questo Viviani Lo mettiamo al posto di Lo mettiamo al posto di Pedro Diaz Va bene Mettiamo anche Iota Per A bucciabacca Ragazzi Per il resto Cercheremo fisicamente di reggere Speriamo bene Ok Namo Lo so che non sono al massimo Però Contro il Bologna Che è diciottesimo Non sono sbaglio Abbiamo visto Comunque sempre lì in fondo Ci proveremo Allora Proprio il Bologna Scende in campo Con 4-2-3-1 Larga positiva Clarence Edorf L'allenatore Skrubski in porta Maseras Corbo Bremer Ramirez In difesa Donzai Soriano Centrocampo Pussetto Cangiano Schneider A supporto del Grandissimo Amico nostro Ex Facundo Colidio Bene Appassionato La vittoria dovrebbe Dovrebbe essere nostra Senza grossi problemi Quindi cerchiamo di impegnarci Al fine Che questo vada ad accadere Effettivamente Bastoni Xalas Ancora per Bastoni Muric ancora Kenf Via dalla Per favore Grazie Xalas Bastoni Guarda E lo sapevo Io lo so Ne sono sicuro Meno male Che ci salvia Poi sempre Bastoni Bastoni proprio Ha delle amnesie Difensive Che veramente Neanche Moris Carrozzieri Porca miseria Spogliatoio Finisce il primo tempo Aggressivo Non sono felice Della prestazione Non abbiamo fatto una mazza 8 tiri Di cui tre importe Il possesso è sempre nostro Ma come sempre ragazzi Tutto ciò non si traduce Poi in effettivi gol Bellingham Verso Pedro Porro Verso Kenf Pedro Porro Kenf Xalas Bellingham Ragazzi Dovremmo andare avanti Dovremmo andare avanti Di lì Di lì La porta è da quella parte Porca miseria Bastoni Baye Verso Sottil Sottil Grande ex Del Catania E Iota E meno male che c'è lui E meno male che c'è Iotuccio nostro Meno male che c'è Iotuccio nostro Ah Sottil Andrea Sottil Comunque grande Sia ex allenatore Che ex giocatore Del Catania Domande di più Intanto Non è Sufficiente Sessantaseiesimo Andiamo a cambiare Proprio Kenf Per Graviglione Che è già munito Iota lo teniamo Poi direi Dominic Corr Per Xalas E lì Perfetto Lì andiamo Ad invertire Con Bellingham E poi Per adesso Lì lasciamo Così Luis Suarez Non sta vivendo Un momento magico Ma fin quando Ci pensa Bogicevic A segnare Va bene così Colidio intanto Cerca ancora Niente Non ce la fa Perfetto Don Sa Grandessimo Qua Bellingham Come la va a prendere Sottile Falla una cosa Sottile Non hai fatto mai Una mazza Sottile Falla qualcosa Sottile Falla Bravo Riccardo Finalmente Finalmente Dai un motivo Dai un senso Al tuo acquisto Ah 2 a 0 No Dai Mamma mia Ti prego Stavo proprio dicendo Finalmente Possiamo rilassarci Un attimo Non famo Che Colidio Ci va a segnare Giusto Gioco Grazie Ogni volta Cazzarola Lodiamoli 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 Posso lodare I miei giocatori Posso lodarli Niente Non li posso lodare Andiamo a fare L'ultimo cambio Andiamo a togliere Iota Proprio Iota E mettiamo Toffol Montiel Sì sì Lo so che non è il suo ruolo Preferito Però secondo me Come Ala Ci va bene Il Bologna Adesso in possesso Palla 89esimo Diaz Il lancio Verso Cangiano Pedro Porro L'allontana Ramirez Ritorna Sul luogo del Misfatto Che era sta cosa Ma veramente Mi fa vedere Sto tiro come azione Importante Per favore Ma fami seri La partita Intanto è finita Signori Andiamo a vincere Anche questa 17-8 Ogni partita Ragazzi Schiacciamo L'avversario Proprio lo schiacciamo Energico Bella vittoria Ragazzi Ben fatto Nonostante il turnover Nonostante Eravamo Senza alcuni Giocatori Importanti Gravion Inganne il Bologna Sottili in evidenza Bravo Riccardo Bravo Riccardo Sei stato superlativo Complimenti Ogni tanto Anche tu Meriti un complimento E adesso Siamo contro Il Brescia Signori Per andare A completare Il filotto Che purtroppo È stato un po' Rovinato Da quel pareggio Contro l'Udinese Ma va bene così Va bene così Va bene così Non si può Non potevamo aspettarci Di vincerle tutte e cinque Ovviamente Già vincerne quattro E pareggiarne una Non so cosa fa Meglio di così Ragazzi Non possiamo fare Sinceramente Comunque Vediamo cosa succede Adesso Contro il Brescia Tredicesimo Questa sembra essere Sulla carta Una partita un po' Più difficile Però noi cercheremo Sempre la vittoria Ovviamente E allora ragazzi Siamo pronti a sfidare Il Brescia L'Angelo Massimino Muric in porta Porro Seovic Terzini Kenfe Bastoni In difesa Buccebacca Sottile Sulle ali Belengan Moriba Centrocampo Suarez Bogicevic Quindi abbiamo Abbiamo di nuovo La formazione al completo Con i nostri massimi protagonisti Andiamo avanti Vediamo Il Brescia Come ha deciso La squadra Stoni No Ma a muri Ma a muri C'è Bravo Bravo Riccardo Sottile Molto allegro Molto frizzante Ultimamente Ottimo il suo assist Per Buccevic Ancora Buccebacca Adesso La può mettere in mezzo Ti prego Mettere in mezzo Mettere in mezzo No Prova il tiro Bravissimo Perché se la mettere in mezzo Non gli piaceva No Ancora Avanza Non c'è nessuno Deve tornare indietro Bellingham Moriba Bellingham Moriba Ancora per Pedro Porro Guardate come si difende Il Brescia Mannaggia Non troviamo neanche Uno spilo di spazio Bellingham Kemp Guarda Mojadiamo a muri C'è Guarda Kemp Ancora verso Pedro Porro Ragazzi È qualcosina Un movimento Un qualcosa Eccala Perfetto Un ottimo movimento Lussignoli Va a Recuperare palla La mette in mezzo Rodriguez Mazza Che botta Che ha dato Ha preso un palo Che ha scoppiato Anche il pallone Mazza Sottila Adesso avanza Va bene Niente È finita l'azione Perfetto Sta per finire Il primo tempo Sì È finito È finito Siamo avanti Parla la squadra Aggressiva No Perché prima Non ha portato benissimo Per il modo in cui Andate in campo Non vi rilassate Le cose possono cambiare Davvero velocemente Quindi stiamo attenti Ragazzi Teniamo sempre la guardia alta Anzi Domandiamo di più Per favore Cerchiamo di far qualcosa In più Suarez Sta attraversando Un periodo un po' Calante Ma è anche giusto Comunque Negli ultimi mesi Della sua carriera Ci sta Ci sta Bastoni Mazza Ma poi sempre lui È incredibile Signori Come possa essere Sempre Bastoni Ad addormentarsi Proprio Cade in un sonno profondo Tra le braccia di Morfeo E proprio Amnesie Incredibili Di Bastoni Vabbè Qua non succede più niente Immagino Sì Infatti Kemp 58esimo Pedro Porro Ancora centralmente C'è Moriba Guardate le maglie Del Brescia Bogicevic Mamma mia Ma che cosa è Che cosa è Ma quanto lo amo Quanto già lo amiamo Signori Quanto lo amiamo Niente È un fenomeno Raga È un fenomeno Ci siamo messi a casa Un fenomeno Sotto il doppio assist Bravissimi Finalmente Sì Ammonito Aspetta Andiamo a fare dei cambi Bucciabacca Lo leviamo Mettiamo Axadas E poi E poi C'è un altro monito No Bucciabacca Ce lo tengo Ragazzi Non lo voglio togli E manca ammazzato Mettiamo piuttosto Sottilex Stanco Si va a prendere La standing ovation Grazie al suo doppio assist Mettiamo a Robinac E lo stesso Facciamo per Jude Bellingham Mettiamo Mettiamo il buon Il principe Ranocchio Dai 83 84 85 86 Ragazzi Siamo sul finire Anche questa Ce la siamo portata a casa Veramente abbiamo fatto Delle prestazioni Pazzesche Ragazzi Ripeto Io più di questo Questa squadra Non credo possa fare Appassionato Sono davvero felice Del risultato Della vostra prestazione Ragazzi 4 vittorie su 5 Un pareggio Nonostante le due Trasferte Bogicevic Un altro campione In erba Vediamo Adesso sono sempre Settimi Però siamo A prescindere Da tutti i risultati Che andiamo a prendere Siamo sempre Settimi La classifica Dice che però Attenzione No mazzo 3 partite 3 partite in meno La Lazio Che cazzo L'ha fatto Vabbè Andiamo avanti Favamo la gioca Allora La Lazio ha giocato La classifica È ovviamente Un po' falsata Perché Mancano due partite La Lazio All'appello E una Per la Juventus Che giocherà Non so quando Comunque Per il momento Siamo a meno 4 Dai Bianco Celesti A pari merito Con la Juventus Ragazzi Stiamo a fare Un campionato Incredibile A mio avviso È davvero Meglio di così Non si poteva fare Però purtroppo Come ho sempre detto Lì davanti Stanno Ci sono i mostri Non si fermano Le vincono tutte E quindi Non riusciamo Ad accorciare Comunque Detto questo Il prossimo episodio Lo scontro finale Ragazzi È proprio Guardate qua Che cazzo Non l'abbiamo Nell'episodio finale Ricordo che domenica Ci sarà la live Sul mercato Il prossimo episodio Finiremo il campionato Dove si deciderà tutto Sono già emozionato Solo a parlarne Abbiamo Lazio Juventus Milan Empoli Frosinone Sampdoria Ammazza Allora Vediamo un po' Lazio Juventus Il Milan Empoli Frosinone Endostale Qua Comunque L'episodio Pazzesco Il prossimo Sarà un episodio Pazzesco Dove si deciderà tutto Purtroppo avremo Tutti gli scontri Diretti Ravvicinati Uno dopo l'altro Sarà molto difficile Comunque Ci proveremo Come sempre Ragazzi Fatemi sapere la vostra Qua sotto Nei commenti Lasciate un bel like Condividete Qualora vi fosse piaciuto Il video Magari iscrivetevi Anche al canale Perché no Sarei molto felice Noi ragazzi Ci vediamo alle 16 Con un nuovo video Come sempre Sennò domani Con altri video Sempre qui insieme Altogether Ciao